Lasciaci la parola perché adesso sono io in primo piano. Benissimo, benissimo. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti. Piccole informazioni di servizio prima di iniziare. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi chiedo di registrarvi all'evento. Trovate il link in chat con il codice da inserire. Inoltre, chi volesse fare delle domande può scrivere anche in chat. Lascio ora la parola al nostro amministratore delegato, Andrea Toscano. Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi abbiamo organizzato questo evento perché stiamo cercando nuovi agenti da inserire nei nostri organici, nella nostra rete diretta. Io rappresento la Toscano S.P.A. che in questo momento sta cercando 45 nuovi agenti nelle maggiori città italiane e allo stesso modo anche la Gruppo Toscano, cioè la nostra rete in franchising, sta cercando ben 200 agenti. E proprio per questo abbiamo deciso di organizzare questo evento per raccontare la nostra realtà, la realtà toscano. Siamo presenti in tutta Italia, abbiamo oltre 200 punti vendita, siamo un'azienda che sta sul mercato da oltre 40 anni e in questo momento, grazie anche a un mercato estremamente interessante, tenete presente negli ultimi tre mesi, il numero di case vendute è aumentato del 25%, non rispetto al 2020, ma addirittura rispetto al 2019. Proprio per questo sta aumentando la richiesta da parte dei clienti e per questo stiamo cercando nuovi agenti. Questo evento nasce dall'idea di rendere vivo il ruolo dell'agente immobiliare attraverso chi ha già fatto questo percorso professionale e lo sta continuando, perché molti di loro stanno proseguendo costantemente nella crescita professionale del nostro lavoro. E per questo abbiamo organizzato un evento ospitando un nostro agente, quindi una persona che ha fatto il percorso professionale, ha iniziato quindi con tre mesi di formazione ed è poi diventato agente. Poi ospiteremo, si chiama, ecco nella fattispecie già lo presento, a breve gli darò anche la parola, si chiama Lorenzo Signorini dell'Agenzia di Bologna. Poi subito dopo parleremo con Paolo Maria Alessio, team manager dell'Agenzia di Milano Porta Romana ed è anche speaker della nostra Golden Domus Academy. E poi parleremo con il sales manager Andrea Maria Corsetti dell'Agenzia di Roma Appianuova, un sales manager che coordina un'agenzia diretta. Poi andremo in ultimo alla figura del broker, cioè colui che apre un'agenzia. E con noi è Eric Vlamasi che sta gestendo una start-up in una zona importante di Milano. Ora però, prima di entrare nei luoghi e nei dettagli, ho il piacere di avere qui con me l'area manager di Roma, Fabrizio Verdecchia, è il supervisore di 13 agenzie dirette su Roma e di circa altri 10 punti affiliati nel Lazio. Volevo attraverso Fabrizio farvi raccontare quella che è la libera professione e il mestiere dell'agente immobiliare. Ciao Fabrizio. Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Come anticipato da Andrea, sono Fabrizio Verdecchia, area manager per quanto riguarda Roma. Ovviamente anche la mia attività all'interno di questa azienda è iniziata circa 30 anni fa, ovviamente con l'attività di consulenza. E come tutte le persone che attualmente ricoprono dei ruoli al nostro interno, attraverso l'impegno, i risultati e il raggiungimento dell'autonomia mi è stata data la possibilità di ricoprire più ruoli fino a quello attuale. Allora, prima di parlare di quello che è la nostra attività, che in qualche maniera qualcuno può immaginare, poi magari entraremo più nello specifico, volevo dedicare delle parole sul far capire chi è l'agente immobiliare. L'agente immobiliare è un libero professionista e normalmente chi sceglie la libera professione la sceglie per sfruttare delle opportunità che altri tipi di lavoro non danno, come i lavori da dipendente, che sono l'opportunità di crescita professionale e di conseguenza quella economica. Nelle libere professioni queste opportunità sono strettamente collegate e soprattutto sono raggiungibili attraverso i meriti che uno conquista sul campo, attraverso il proprio impegno e attraverso il proprio risultato quotidiano. Nelle libere professioni, nell'ambito commerciale, il nostro lavoro in assoluto è quello che dà più certezza di raggiungimento di questi obiettivi, semplicemente perché l'immobile è una di quelle cose che ogni persona, quando diventa adulto, deve avere. L'immobile è qualcosa di importante per l'italiano, quindi in affitto o in acquisto ognuno di noi dovrà risolvere questa problematica nel tempo. Quindi finché ci sarà gente, ci sarà gente interessata ad acquistare e a vendere case, quindi è un settore inesauribile. Ma soprattutto quando si risolve un problema così importante per l'italiano, ci vedono alla stessa strega di altri professionisti, di altri settori come l'avvocato, come il commercialista, con un'unica grande differenza che per diventare, per raggiungere nelle altre libere professioni dei risultati economici e professionali, frutto di tutti gli studi e praticantati che uno ha fatto e quindi il sacrificio che nel tempo ha avuto, forse non bastano 10 o 15 anni. Nel nostro settore, con tempi molto inferiori, si può raggiungere un'autonomia lavorativa e di conseguenza un risultato economico. basti pensare che quando noi parliamo con un neofita, all'incirca, nell'arco dei due mesi, questa autonomia si può raggiungere. Autonomia che poi può mettere nella condizione ogni persona di capire quale può essere il percorso di crescita all'interno della nostra azienda. Dopo ci saranno delle testimonianze di molte delle nostre risorse che attualmente ricoprono dei ruoli in base anche ai tempi di permanenza al nostro interno e ruoli all'interno della nostra azienda piuttosto, come qualcuno ha fatto, puntare all'imprenditoria aderendo al progetto del franchising che la nostra azienda ha. Passiamo adesso a cosa fa l'agente mobiliare. L'agente mobiliare è un mediatore e proprio perché il nostro prodotto è la casa, quindi vendere case, più ne abbiamo di case e più riusciamo a soddisfare la richiesta dei nostri clienti presenti nei nostri database. Pensate che oggi noi in tutta Italia abbiamo circa 350.000 richieste attive dove a fronte di queste richieste noi giornalmente ci sostituiamo a loro nella ricerca dell'immobile per offrirgli sul piatto d'argento l'appartamento dei propri sogni e per questa ricerca, ovviamente poi legata a tutto quello che è il servizio che porta fino all'acquisto, un acquirente ci paga. Quindi per una cliente mobiliare la conoscenza del territorio d'appartenenza proprio per effettuare queste ricerche è di fondamentale importanza perché oggi una persona che medita di vendere una casa prima di farlo o privatamente o con un'agenzia magari lo dice al vicino, lo dice al condomino, lo dice al portiere, lo dice al negoziante, al parente. Per non arrivare laddove il cliente ha deciso il giorno prima di vendere un immobile è di fondamentale importanza perché il cliente vede di buon occhio l'utilizzo della nostra azienda per la valutazione di un immobile e da lì l'utilizzo del servizio per la vendita diventa un fattore abbastanza scontato, ovviamente utilizzando tutti quelli che sono i servizi e dal momento che il venditore utilizzerà i nostri servizi e la nostra banca dati entrerà in gioco l'attività e il servizio nei confronti del venditore. Con una finalità che è quella di trovare l'acquirente giusto che potrà arrivare ad acquistare quell'immobile. Ovviamente per poter fare questa attività chi si andrà a candidare, chi verrà selezionato, avrà a fianco un gruppo che ha un metodo ruotato ormai da 40 anni di attività, quindi sappiamo benissimo quali sono le cose da fare per raggiungere l'obiettivo. Ovviamente poi serve la quotidianità del singolo. E soprattutto abbiamo un'azienda che ci dà strumenti molto importanti sia di marketing e strumenti anche tecnologici per fare quotidianamente la nostra attività. Mi auguro di aver in qualche maniera chiarito le idee a chi ci sta ascoltando. Ripasso la parola ad Andrea, poi se successivamente ci saranno delle domande sono disponibili a qualunque tipo di risposta. Grazie Fabrizio. Insomma hai dato una visione credo chiarissima di tutta la nostra attività e della libera professione. E ora, lo annunciavo poco fa, passiamo alla prima testimonianza di un nostro agente che è entrato proprio circa un anno fa nell'Agenzia di Bologna e ha iniziato un percorso professionale che adesso ormai è da poco più di un anno se non sbaglio, ma passo la parola a Lorenzo Signorini dell'Agenzia di Bologna Centro. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Signorini appunto, ho 27 anni e sono esattamente da un anno in Toscano. Sono entrato dopo aver completato i miei studi, mi sono laureato, ho fatto un master, ho lavorato all'estero, per causa Covid sono dovuto tornare. Ho passato un'estate senza sapere quello che volevo fare e ho capito però nel breve tempo in cui ho lavorato in un'azienda nel commerciale appunto anche che il lavoro d'azienda non era quello che stavo cercando in questo momento lavorare davanti a un computer per 8 ore, non era quello che a cui ero portato e quindi ho deciso quasi per gioco vedendo su LinkedIn una posizione aperta da parte della società toscana di candidarmi. I primi tre mesi ho sostenuto appunto lo stage nel quale sono stato affiancato da persone in cui erano molto più esperte di me, mi hanno supportato, supportato sia di presenza, quindi da un sales manager all'interno dell'agenzia, ma anche dall'agenzia e dalla società, perché quotidianamente, periodicamente, facevamo dei webinar, dei corsi di aggiornamento, in modo tale da essere sempre più autonomo nel lavoro. e ritengo di essermi migliorato tanto nei tre mesi di stage, infatti all'inizio c'erano qualche, magari qualche perplessità sul lavoro, ma essendo stato supportato sin dall'inizio mi sono trovato subito bene e tipo, per esempio, dopo un anno mi ritengo di essere stato molto fortunato e bravo perché sono riuscito a raggiungere traguardi molto importanti, come aver chiuso tante vendite che non era del tutto scontato. E ritengo che questo lavoro non abbia bisogno di competenze scientifiche o tecniche, è un lavoro che è di tutti, però non è per tutti. Perché? Non competenze tecnico-scientifiche, ma tante competenze personali. Bisogna avere tanta voglia di fare, prendere il lavoro con tanto entusiasmo, vivere la giornata sempre con entusiasmo e i risultati sicuramente arriveranno. Prima di iniziare questo lavoro, diciamo che anche io era una persona che si sposava bene con il lavoro dell'agente immobiliare, perché era una persona molto estroversa, curiosa e ambiziosa. D'altra parte, questo lavoro ha portato a me di affinare ancora le mie caratteristiche personali, perché il lavoro mi ha dato tanto, come essermi responsabilizzato tanto. Mi sento molto più responsabile, molto più tenace e ambiziosa ancora di più di quello che lo ero prima. I primi tre mesi sono stati appunto di collaudo, di verifica delle caratteristiche che servivano, nel senso di fare notizia, di portare un'acquisizione e al giorno d'oggi, dopo solo un anno, riesco a parlare con gente anche di un certo tipo come ingegneri, avvocati, allo stesso livello loro. Per concludere, un piano inferiore degli altri, anche l'aspetto economico fa un rilievo su questo lavoro, perché io dopo solo un anno sono riuscito a togliermi tanti sfizi che magari, non avendo iniziato questo lavoro, non sarei riuscito a fare. Quindi devo ringraziare da una parte la società Toscano, che mi ha messo in mano una posizione in cui io potevo dare tanto e sono molto contento della scelta che ho fatto. Quindi ritengo tutti di provarci, perché se fatto nel modo giusto, fidatevi che è un lavoro che potrà darvi grandi soddisfazioni. Grazie Lorenzo. Riprendo le tue parole sul tema entusiasmo. Sicuramente è un lavoro dove avere il sorriso, avere un atteggiamento propositivo e proattivo fa forse più di qualsiasi altro aspetto. Chiaramente poi ci sono tante cose da apprendere che uno costantemente lo potrà fare all'interno di una nostra agenzia, perché sarà seguito da tutti i ruoli che poi oggi vedete qui. Allora proprio per questo chiedo a pennello Paolo Maria Alessio, che è poi il team manager della nostra agenzia di Milano Porta Romana. E chi è il team manager? Il team manager è quel ruolo di manager più vicino però agli agenti, quindi è il riferimento proprio operativo sotto ogni punto di vista. Lo è anche il sales manager, però il team manager è una figura molto molto vicina agli agenti che supporta il loro sviluppo, la loro formazione e dà anche un grande contributo economico. Infatti Paolo Maria è stato vincitore di tre Golden Domus, il nostro popolare premio che premia ogni anno i migliori di varie categorie e Paolo Maria ha ottenuto grandi risultati. A te Paolo. Grazie Andrea e ben trovati, buongiorno a tutti. Come anticipato sono Paolo Maria Alessio, ho 25 anni e sono in Toscano dal gennaio 2018. Ricopro il ruolo di team manager dell'agenzia Porta Romana a Milano. Volevo raccontarvi quello che è un po' il mio avvicinamento all'azienda e come sono avvenuto a conoscenza. Premetto che concludo i miei studi ed era un periodo dove non ero molto convinto su quello che volevo fare poi nella mia vita. Tramite un amico di un amico vengo a conoscenza dell'opportunità che offriva questa azienda e quindi decido di candidarmi. Porto il mio curriculum e vengo richiamato per un colloquio che tra l'altro feci con te Andrea e da lì inizia un po' la mia esperienza, il mio percorso di stage come tutti. Devo dire non con poche difficoltà all'inizio, però grazie comunque a una mia grande caratteristica che è la tenacia, la voglia di arrivare e poi anche vedendo all'interno dell'agenzia i superiori e persone sopra di me che ottenevano grandi risultati e si toglievano tante soddisfazioni sia personale che ed economiche, ho deciso di stringere i denti e apro così la partita IVA, divento libero professionista. A quel punto concludo il primo anno tra i dieci migliori agenti della Toscano in Italia e inizio molto bene il secondo, come ha annunciato Andrea, detengo il record di fatturato agente e vinco sia quell'anno lì sia fatturato che attività e operazioni immobiliari. Cosa importante che tra l'altro prendo molto a cuore, quell'anno lì aggiungo un tassello alla mia carriera che è quella divento team manager. Questo tassello è quello della formazione e crescita di nuove risorse. Come vi ho detto lo prendo molto a cuore e infatti divento anche speaker della GDA, come annunciava prima, è la nostra scuola di formazione interna, la Golden Domus Academy, dove oltre a insegnare il metodo toscano, tramite i nostri corsi settimanali cerchiamo di trasferire tecniche, pratiche e teoriche riguardanti tutta l'attività dell'agente immobiliare. Ovviamente attraverso concetti mentali, attualmente poi noi in agenzia siamo in otto, stiamo crescendo e quello che posso dirvi è che tutti i ragazzi all'interno dell'agenzia sono riusciti, compreso me, a togliersi grandi soddisfazioni personali ed economiche in tempi che io reputo anche relativamente brevi. Grazie. Grazie Paolo. Ora veniamo alla storia di Andrea Maria Corsetti, Sales Manager dell'agenzia di Appia Nuova. Prima di farti iniziare aggiungerei alcuni aspetti anche per dare un quadro chiaro di chi è un agente immobiliare e magari ancora non sa di esserlo. Sicuramente è una persona con doti relazionali che il no lo vede come uno stimolo, che anche un'esperienza negativa lo vede come qualcosa da cui imparare. Ecco, queste forse sono delle caratteristiche molto importanti, come anche avere una flessibilità di pensiero, perché ti devi mettere costantemente in discussione, avere, essere pronta ad apprendere sia teoricamente, come diceva Paolo, ma anche praticamente osservando e rubando con gli occhi. Uso questa parola perché è proprio così. Credo che chiunque entra all'interno del nostro gruppo deve cercare di prendere da tutte le persone con cui entra in contatto, anche dai clienti, perché poi anche le esperienze che faremo con i clienti o con i contatti in zona saranno elementi importanti. ecco, ho fatto questo piccolo preambolo, Andrea Maria, te ci puoi sicuramente raccontare che molte altre cose. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti, mi chiamo appunto, come dice Andrea, Andrea Maria Corsetti, ho 30 anni e sono appunto il Sales Manager dell'Agenzia di Roma Pianova. Dopo essermi laureato in ingegneria, ho iniziato a cercare lavoro ed inviare curriculum. Tra le varie offerte, appunto c'era quella della Toscano che mi sembrava molto allettante e siccome sono sempre stato affascinato dal mondo immobiliare, ho inviato la mia candidatura. Così sono entrato in Toscano nell'aprile del 2018. Quando ho iniziato lo stage, ho trovato in agenzia un team di ragazzi molto motivati e soprattutto concentrati al raggiungimento degli obiettivi. Sono stato seguito passo passo dal mio Sales Manager in tutte le attività a 360 gradi che è poi quello che io oggi faccio con i miei agenti ed ho raggiunto così la mia prima vendita già nel periodo di stage. L'aspetto che principalmente mi ha coinvolto più di tutti è stato quello di poter fare la differenza sin da subito e questo mi ha portato per forza di cose a mettermi in gioco e raggiungere in breve tempo dei risultati soddisfacenti prendendo incarichi già nelle prime settimane e classificandomi tra i primi dieci posti per attività e per fatturato. Ritengo di essere una persona molto ambiziosa, intraprendente, determinata che sono delle qualità fondamentali insomma per fare questo lavoro al meglio ma questo lavoro altrettanto mi ha aiutato moltissimo a sviluppare delle capacità relazionali a conoscere il territorio dove lavoro e ormai abito e a migliorare anche la mia capacità d'ascolto. L'azienda motiva molto tutte le persone che ne fanno parte organizzando appunto come dicevano prima i miei colleghi le gare tra agenzie e tra agenti e questo ci permette di essere molto competitivi e fare sempre di più per alzare l'articella. Il metodo toscano è infallibile grazie anche agli strumenti che abbiamo a disposizione tra cui l'app P-Plat che è la nostra piattaforma su cui gestiamo tutta la nostra attività. Questo è un lavoro che ti appassiona moltissimo e ti permette anche di raggiungere grandi soddisfazioni sia a livello personale che economico. Passa la parola a te Andrea. Grazie Andrea Maria e ora prima di concludere passo la parola a Eric Vlamasi Eric ha fatto un'altro tipologia di passo di carriera dopo aver ottenuto risultati importanti all'interno della nostra rete diretta ha scelto la strada dell'imprenditoria diventando un punto affiliato perché in Toscano offriamo anche questa possibilità poi di poter aprire una propria agenzia diciamo autofinanziando col proprio lavoro l'apertura di questa start up ma lascio ad Eric tutti i dettagli. Grazie buongiorno a tutti mi chiamo Eric Vlamasi e sono il real estate broker dell'agenzia di Milano Monterosa. Allora il mio percorso inizia all'età di 20 anni metto piede in azienda a 20 anni spinto dal fatto che mio fratello già lavorasse all'interno di questa struttura ma soprattutto spinto dal fatto che lo vedessi appagato sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista economico è stata una grossa spinta per me quindi decisi di cominciare fissare un colloquio inizia il mio stage ovviamente iniziai lo stage con diversi dubbi nel capire se era il lavoro che faceva per me se era quello che volevo fare nella vita però allo stesso tempo con molto entusiasmo e con la grinta che diciamo mi contraddistingue infatti dopo poco più di due anni sono diventato autonomo e ho aperto la mia prima agenzia immobiliare con i miei due responsabili il mio team manager e il mio sales manager ovviamente agevolato dal fatto che l'azienda mi permette di autofinanziarmi quindi di rendere più agevole l'apertura di nuovi punti vendita così com'è così con chiunque all'interno dell'azienda e quindi ho iniziato questo percorso ho creato questa start-up e non nego che non è stato semplice però penso anche che se una cosa risulta troppo semplice nelle cose importanti della vita come può essere il lavoro la famiglia le relazioni penso che l'asticella sia un po' un po' troppo bassa quindi so di avere ancora molta strada da fare è una sensazione che mi piace e quindi nulla sono orgoglioso del mio percorso fatto spero di essere stato d'aiuto nella presentazione di questa azienda che reputo molto importante per me e ripasso la parola a Toscano grazie Erika assolutamente ci ha dato insomma una testimonianza importante e sicuramente quello che può essere uno dei punti di arrivo perché oggi avete visto varie tipologie di punti di arrivo ma di sviluppo perché ogni fase è un punto di sviluppo poiché poi le opportunità naturalmente possono essere molteplici poi nel tempo andando avanti qui vediamo comunque tutti i casi di persone che hanno iniziato a età differenti con bagagli ed esperienze e motivazioni diverse che sono riuscite soprattutto con delle caratteristiche personali e umane che combaciano proprio con quella che è l'attività della gente immobiliare e noi oggi stiamo cercando proprio tutti quella tipologia di persone ora volevo entrare in alcuni dettagli di quella che è la nostra azienda come dicevo all'inizio siamo 200 agenzie in tutta Italia e nasciamo nel 1982 proprio l'anno prossimo faremo 30 anni scusate 40 anni quindi da tantissimo sul mercato come una indubbiamente delle voci più credibili del mercato immobiliare credo che si veda chiedo agli altri relatori confermate che si vede lo schermo tutto in ordine vedete bene? si vediamo benissimo bene come accennavo poco fa quindi nasce nel 1982 da 40 anni sul mercato come potete vedere abbiamo sempre curato l'immagine della nostra delle nostre agenzie come contestualmente anche l'attività e l'operatività dei nostri agenti prima sentite parlare della nostra scuola di formazione che è in costante evoluzione e rinnovamento proprio perché è l'elemento cardine su cui sviluppare i nostri clienti come dice il nostro presidente fondatore il nostro primo obiettivo è la fiducia e la soddisfazione dei nostri clienti ed è per questo obiettivo che lavoriamo ogni giorno con passione e professionalità la stessa passione fiducia e soddisfazione la mettiamo verso i nostri collaboratori ogni collaboratore che entra all'interno della nostra azienda ha poi anche l'obiettivo di aiutare e supportare tutti i nuovi entrati perché poi nel tempo tutti noi diventiamo persone che trasferiscono la propria professionalità il proprio know-how che l'azienda mette all'interno di ogni nostra agenzia e questo è l'obiettivo principe supportare ogni nostro agente per far sì che possa dare il migliore dei servizi possibili ai nostri clienti acquirenti e venditore Toscano perdonami se ti interrompo forse le vediamo meglio se le metti in presentazione le slide va bene perfetto ok grazie adesso credo si veda meglio sì perfetto bene ora entriamo invece su altri aspetti perché Toscano non è solo intermediazione immobiliare o franchising cioè gruppi di agenzie che danno il servizio di agenzie immobiliare ai nostri clienti acquirenti e venditori ma è un gruppo di aziende infatti abbiamo la Toscano Mutui che supporta proprio l'operato delle nostre agenzie e dei nostri clienti perché va a dare Mutui naturalmente essendo una società di merzione creditizia ha varie tipologie di istituti di credito per poter dare il miglior mutuo possibile la OASI Home Design che si occupa di ristrutturazione anche di supportare le agenzie immobiliari nel presentare al meglio i nostri immobili ogni nostro cliente può avvalersi di una ristrutturazione con OASI subito dopo aver acquistato una casa questo è un vantaggio sia per chi vende casa che per chi la acquista per chi vende perché naturalmente un acquirente già ha questo tipo di servizio che ha un forte valore aggiunto la Toscano gestione immobiliare che si occupa di property management di gestione di centri commerciali di immobili la Toscano Editore Advertising è qualcosa che supporta invece quotidianamente l'attività di ogni nostro agente immobiliare perché è il nostro marketing si occupa di ideare campagne di promozione in televisione in online cartacee quindi va una divisione dedicata a darci migliori servizi come la T-Software prima Andrea Maria parlava di T-Platt è la nostra piattaforma proprietaria fatta su misura per i nostri agenti e per le nostre esigenze c'è un dipartimento che lavora costantemente a nuovi prodotti per supportare i nostri agenti e poi ritorniamo naturalmente al franchising e all'intermediazione immobiliare ma di quello già ne abbiamo parlato insomma Toscano è un gruppo di aziende è un vero e proprio gruppo a tutto tondo naturalmente tutto parte però dall'interno delle nostre agenzie che sono tutte su strada e curate in ogni dettaglio in modo da poter fornire la migliore esperienza ai nostri acquirenti e venditori abbiamo naturalmente sicuramente la nostra missione è l'elemento cardine indubbiamente è vendere casa ai nostri clienti e farla acquistare anche a tutti gli acquirenti che stanno cercando cerchiamo di fare questo attraverso due aspetti la tradizione 40 anni sul mercato dove ci hanno mosso sempre l'etica la motivazione la passione la responsabilità il rispetto l'affidabilità un gruppo che è da 40 anni sul mercato deve costantemente seguire questi punti cardini li abbiamo scritti in una nostra carta dei valori ed è un qualcosa che ci ispira giorno dopo giorno e che ispira tutti i nostri agenti l'innovazione perché è indubbiamente centrale centrale per rendere il lavoro dell'agente immobiliare sempre più efficace concreto e per dare quindi la migliore esperienza possibile ai nostri clienti come già dicevo poco fa abbiamo software di analisi creati ad hoc perché come il liceo è tutto interno una piattaforma digitale integrata con i maggiori portali immobiliari report per i nostri clienti quindi tecnologia anche per la nostra clientela oltre che per i nostri agenti il tutto naturalmente per fornire la migliore esperienza entriamo prima vi parlavo di marketing ma ora entriamo nei dettagli di marketing quello che facciamo è mettere nelle condizioni un agente immobiliare di non dover pensare a nulla sotto questo aspetto perché ci sono campagne pubblicitarie in tv che vengono fatte costantemente prima Fabrizio parlava della nostra banca dati che è proprio grazie a tutto questo marketing che è così folta ascoltavo poco fa oltre 350.000 nominativi ed è grazie a tutto questo marketing che consente la possibilità di poter subito avere la persona giusta per un immobile acquisito questo è un elemento indubbiamente molto importante il nostro portale toscano.it l'app la pubblicità televisiva sulle reti Rai qui posso darvi un'anteprima nel mese di ottobre è già programmata una nuova campagna pubblicitaria sia sulle reti Rai che sui maggiori social network e qui anticipo quello che costantemente facciamo campagne di web marketing che portano milioni e milioni di visite ora entrando in dettagli ancora più in aspetti ancora più di dettaglio possiamo vedere la promozione che facciamo degli immobili quindi sui maggiori portali italiani grande forza al nostro portale toscano.it a cui dedichiamo particolare energia facendo investimenti importanti anche su i principali motori di ricerca come google facebook e poi una cura della presentazione degli immobili con video di attuazione in ultimo l'aspetto delle newsletter strumento o anche messaggi whatsapp che sono aspetti molto apprezzati dai clienti perché danno quell'immediatezza nel momento in cui ci sono nuovi immobili a disposizione danno la possibilità alle persone subito di essere contattati e poter andare a visionare un immobile strumenti che riguarderanno tutti i nostri agenti e che riguardano costantemente i nostri agenti sono tutti quei strumenti di presidio del territorio che sono i cattelli strumenti vari perché il marketing costantemente pensa a iniziative nuove proprio per darci modo di operare in modo sempre più sempre innovativo anche in quello che è il mercato offline cioè il contatto con il pubblico con le persone che conosciamo nella zona e con tutti i clienti venditori che conosciamo in zona per questo sono determinanti le nostre agenzie di zona in costante espansione prima sentivamo parlare Eric che è una nuova apertura proprio volta a presidiare meglio il territorio e dare servizi sempre a dare la possibilità ai nostri clienti di poter andare nella propria agenzia di quartiere questo è il nostro obiettivo cioè ampliare il numero di persone che entrano all'interno del nostro gruppo con la possibilità di poter offrire il servizio a sempre più clienti con aperture anche territoriali nelle zone più vicini a loro in ultimo ma forse ne ho parlato già prima ampiamente la Golden Domus Academy prima Paolo Maria ha fatto insomma una descrizione ottimale della nostra accademia che è stata totalmente ristrutturata un anno fa e che è in costante evoluzione tenete presente che veramente si può dire che ogni corso non è mai uguale a un altro anche sullo stesso tema l'innovazione nella nostra scuola di formazione è l'elemento cardine costantemente in base ad esperienze pratiche viene costantemente innovata e aggiunti elementi perché? perché è fatta da agenti immobiliari che stanno su campo agenti immobiliari che operano costantemente e che quindi grazie alla loro esperienza vanno a innovare la metodologia e a diffonderla anche in tutte le nostre agenzie attraverso i nostri webinar e poi a breve ci sarà anche un ritorno ad esperienze fisiche ora entrando al primo tema che ho affrontato dove stavo dicendo che in questo momento stiamo cercando per la Toscana S.P.A. che è fatta di 28 agenzie 45 agenti 18 posizioni sono aperte su Roma 8 su Milano 3 a Torino 2 a Palermo Cagliari Bologna Verona Bari Genova e Firenze 1 a Napoli e Catanzaro questo chiaramente è in costante evoluzione anche questo aspetto quindi questo è in questo momento il bisogno che c'è nelle nostre agenzie e chiaramente vi faccio adesso un esempio le agenzie dirette su Roma sono 13 e in questo momento stanno cercando 18 posizioni su Milano sono 3 le agenzie dirette ne stanno cercando 8 in tutte le altre a Torino sono 2 ne stanno cercando 3 nelle altre città invece sono agenzie singole parliamo di rete diretta contestualmente la nostra rete in franchising è fatta di altre 170 agenzie che in questo momento stanno cercando 200 agenti quindi comunque potete proporvi anche in tutte le nostre agenzie in franchising perché anche nelle nostre agenzie in franchising stanno cercando un numero importante di persone come vi dicevo l'incremento di mercato che si sta avendo richiede un aumento degli organici importanti i nostri piani di sviluppo richiedono un incremento dei nostri organici tenete presente che in questo momento siamo circa 750 e il nostro obiettivo è arrivare entro il 2025 a 2000 persone questo come dicevamo per poter dare il nostro servizio a più clienti possibili entrando in alcuni aspetti che forse avete anche letto rispondendo all'annuncio ma li voglio riepilogare in maniera schematica ecco qui cosa offriamo per iniziare il percorso professionale offriamo un fisso di 800 euro al mese durante questi tre mesi di formazione finalizzati all'inserimento e quindi al percorso professionale quindi ogni mese avrete un fisso di 800 euro successivamente ci saranno incentivi premi provvigioni e il corso per diventare agenti immobiliari sì perché immediatamente nel momento in cui un agente apre diventa un agente toscano avrà il corso per diventare agente immobiliare questo corso ha il valore di 600 euro e viene totalmente pagato dall'azienda e inoltre oggi le avete viste in maniera reale le concrete possibilità di carriera che ci sono all'interno del gruppo facendo una media da quelle che sono le varie esperienze che ci sono state all'interno del nostro gruppo abbiamo individuato che nel primo anno di attività si arriva ad avere guadagni 3000-3000 euro al mese questo naturalmente può variare ma può essere anche più alto come guadagno questo dipenderà chiaramente dall'operato di ognuno e anche dal proprio percorso questo ognuno è diverso oggi abbiamo sentito vari percorsi ma indubbiamente questa è una media a cui tutti possono ambire ma anzi puntare anche a superarla il nostro è un'offerta a tempo pieno è un percorso professionale finalizzato all'inserimento quindi non integrabile con altre attività ora per tutti quelli che hanno visto la nostra diretta facebook che hanno visto questo evento possono candidarsi su mandando una semplice mail su job chioccio la toscano punto it o andando sul nostro portale toscano punto it nella sezione lavora con noi o entrando all'interno delle le sezioni delle nostre agenzie e candidandosi proprio ad un'agenzia specifica per chiunque ci sta seguendo su facebook può anche scriverci nei commenti inserendo il suo contatto o contattarci in privato ringrazio a questo punto tutti quanti per questa diretta e questo evento Stefania io a questo punto ho concluso chiunque vuole candidarsi può immediatamente mandarci la sua candidatura sarà contattato nei prossimi giorni a